Siamo molto felicesi su questa situazione e sono convinto che ce la faremo. Un Parma che deve cercare la salvezza, è ancora un punto sopra, qualche risultato, speriamo che possa arrivare a 39-40 punti e la quota da raggiungere, credo. Stasera non siamo qui per parlare di fuori, ci godiamo questa festa e poi siamo convinti che potranno fare sicuramente bene. Poi il resto, lo hanno detto anche loro, se loro si stanno vicini e noi giochiamo come sappiamo, l'obiettivo è raggiungibilissimo.